Un saluto e ben ritrovati con il TG di Trebi Meteo. Partiamo subito con l'immagine da satellite che ci mostra l'Italia a sgombra da nubi, il sole resta al protagonista da nord a sud, da segnalare però solo un po' di instabilità durante le ore pomeridiane e serali sull'arco alpino con qualche occasionale acquazione che potrà anche estendersi verso il Friuli Venezia Giulia e locali disturbi anche sull'Appennino Meridionale. Per il resto tanto sole per effetto di un campo di alta pressione che continua a dominare la scena sul Mediterraneo occidentale alimentato da masse d'aria calda provenienti dal Nord Africa che nei prossimi giorni continueranno a interessare l'Italia regalando tanta stabilità e un anticipo d'estate tanto che si potranno anche superare i 30 gradi sulla Val Padana, le zone interne del centro, un po' meno caldo al sud, qui il clima sarà più gradevole. La situazione rimarrà simile anche nella metà della settimana e nei giorni a seguire con questo promontorio di alta pressione che addirittura tenderà a innalzarsi fin verso l'Europa centrale favorendo anche un'impennata delle temperature al di sopra dei 32-33 gradi, un caldo intenso e che inizierà ad essere anche affoso in particolare sulla Val Padana. La situazione però in vista del weekend vedrà l'arretramento di questo campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale per l'intensificarsi del flusso atlantico sull'Europa centrale che potrebbe quindi coinvogliare un po' di instabilità anche sulle nostre regioni, in particolare sull'arco alpino, ma per tutti i dettagli consultate l'app di Trebi Meteo.